Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi sono un fiume in piena, sto facendo video a raffica, ma questo è veramente molto interessante, anche per gli studenti di lingua italiana, studenti stranieri, la storia della smorfia napoletana. Che cos'è la smorfia napoletana? Perché si chiama così? Seguite questo video perché è una cosa a cui ci sono molto affezionato, molto bella, perché ora capirete perché. Quindi è usanza a Napoli quella di giocare il lotto. Che cos'è il gioco del lotto? E' una estrazione, gioco del lotto. Si estraggono dei numeri, trovate anche il sito ufficiale, ormai si può giocare online, e si vincono dei soldi. Quindi ci sono delle estrazioni, il lotto in diretta, potete vedere le estrazioni, ecco, tirano fuori delle palline, come forse voi lo conoscete più che altro come bingo, bingo americano, il bingo inglese, ma in italiano si è sempre chiamato il gioco dell'otto. Ah, ma questo non era quello del grande fratello? Sì, sì, infatti, vedete. E' sempre stata molto simpatica, si è addirittura laureata, vedi che brava. Benissimo, il gioco dell'otto. E quindi vengono estratti questi nomi nel bingo e si vincono dei soldi. Io una volta ho vinto anche, eh? Io una volta ho vinto, ho vinto anche, ecco perché mi piace molto questo... No, ho vinto? Pochino, un pochino, non era tanto poco, ma non era neanche miliardi, eh? Un pochino ho vinto, perché mi è sempre appassionato questo gioco. E credo che per gli stranieri che sono appassionati dell'Italia è molto bello da capire. Quindi, giocare all'otto è di legare a questi numeri, no? A questi numeri, i sogni fatti di notte, i sogni, ai numeri da giocare. E' tutto qui. E' un legame tra il mondo dei sogni, tra il mondo dell'inconscio, viene legato a dei numeri da giocare. La smorfia napoletana, tradizione di Napoli, sembra avere origini molto antiche. Infatti la ritroviamo già nella civiltà greca. Quando Artemidoro da Daldi, o Artemidoro, credo, Artemidoro da Daldi, cominciò a mettere in comunicazione i sogni con i messaggi ultraterreni. Cioè, nel senso che il sogno era un ponte tra il mondo terreno e l'aldilà, in un certo senso. Ecco perché spesso e volentieri, se voi parlate con molti italiani di questo argomento, molti di loro vi diranno che hanno sognato dei loro parenti morti che gli davano i numeri durante il sogno. E molti hanno anche vinto. Fatevelo raccontare dai vostri amici italiani. Ma, ecco, a chi non è mai capitato di fare una partita a tombola, ecco, a tombola si gioca a Natale, il bingo italiano, la tombola in famiglia, ed è molto bello, e c'è un ambiente scherzoso. Ci sono dei soldi in palio. Ambo, cioè chi indovina i primi due numeri, ecco qui le famose cartelline, chi indovina i primi due numeri in fila, in questa, vedete, questa è la prima riga, la seconda riga e la terza riga, se escono, ci sono 90 numeri, da 1 a 90. Vedete, poi durante il Natale vengono coperti con i fagioli, con i pezzettini della buccia del mandarino, delle arance, delle noci, è molto, molto bello giocare in famiglia a Natale a questo gioco, eh? Quindi, se per esempio esce l'11 e il 58, avete fatto ambo, cioè due numeri, e si vince il primo premio, che è molto piccolo. Di solito, possiamo dire, si mettevano in palio, che ne so, 500 lire, 1000 lire, mi piace di parlare delle lire, eh? 3, 3 numeri, terno, mi mettete caso che voi avete fatto 11 e 58, esce il 34 nella stessa riga, eh? Fate 1, 2, 3, fate il terno, ovviamente se esce il 64 non è sulla stessa riga. Poi c'è la quaterna, per esempio, 11, 34, 58, 73, 4 numeri sulla stessa riga quaterna, e qui già si cominciavano a prendere bei soldini, con la quaterna erano 3000 lire, 4000 lire, eh? 5, sono 5 numeri in fila, per esempio avete fatto 11, 34, 58, 73, 80, avete fatto una bella 5 e si prendevano bei soldini, 5000 lire. Per esempio, in una bella tombola di famiglia. Le cartelle venivano vendute a 200 lire, 300 lire, a volte 500 lire, insomma, e ci si divertiva. Me lo ricordo molto bene, è molto molto bello. Io ancora oggi lo faccio a casa, ho organizzato. E perché mi piace, perché voglio mantenere questa tradizione, e i miei figli sono contentissimi, e ci facciamo tante risate, perché adesso capirete perché. Poi, una volta che avete fatto la cinquina, c'è la tombola. Tombola vuol dire che avete, eh, che tutti i numeri sulla vostra cartella sono usciti. Vi è uscito l'11, il 3, il 28, tutti. Quando avete completato tutta la cartella, è il bingo, diciamo, la tombola. Bene, detto questo, andiamo avanti. Da dove deriva questo nome così singolare della smorfia? La smorfia napoletana, tradizione del gioco, eh, dell'otto. Quindi si abbinano i numeri a fatti, a persone che avete sognato, che avete... Ovviamente c'è uno stretto collegamento tra il nome e il sonno, e quindi la figura di Morfeo, Morfeo, il dio del sogno. Alcune teorie sostengono che l'origine della smorfia napoletana sia collegabile alla Kabbalah ebraica, Kabbalah, secondo la quale ogni parola, lettera o segno ha un significato correlato da interpretare allo stesso modo la smorfia è una sorta di dizionario che interpreta per ogni situazione, sogno, persona un numero dall'otto da uno a novanta. Ma se volete, visto che oggi siamo sempre immersi in un mondo digitale, quasi quasi, sembra come una... una digitalizzazione del nostro mondo analogico. È fantastico, signori. Sembra quasi che la nostra vita quotidiana possa essere tradotta in numeri. Ma questa è informatica. È un'idea molto carina che si potrebbe sviluppare, eh. Per esempio, la paura, la paura è il numero novanta. Questa è famosa, lo sanno tutti. Il denaro, il denare, perché questo è collegato col dialetto napoletano, eh. Quarantasei. Quarantasei, io mi ricordavo un altro significato, eh. Ah no, no, giusto, giusto. Ecco, adesso vedremo tutta la lista. Poi vi metto tutti i link in descrizione, eccetera, eccetera. Ad ogni numero c'è una rappresentazione reale, della vita reale, per interpretare appunto i numeri e i sogni. Il gioco, il gioco, questo gioco della smorfia a Napoli, era così diffuso che tra l'Ottocento e il Novecento Matilde Serau descrisse con queste parole il gioco dell'otto per i napoletani. Ebbene, il popolo napoletano rifà ogni settimana il suo grande sogno di felicità. Vive per sei giorni una speranza crescente, perché una volta le estrazioni c'erano, una volta a settimana, oggi il business, oggi credo che ci siano le estrazioni del gioco dell'otto, ci siano forse, ecco, tre volte a settimana oggi. Addirittura martedì, giovedì, vedete, martedì, giovedì e sabato. E c'è l'estrazione alle 19.55. Potete addirittura seguirla in diretta. Pensate. E una volta, mi ricordo, infatti anch'io quando ero piccolo, c'era una volta a settimana, questa estrazione. Quindi viveva per sei giorni questa speranza, dice, magari potessi vincere i soldi per aiutare, insomma, per sollevarsi dalla situazione un pochino della vita un po' difficile, no? Economicamente difficile. Il lotto è il largo sogno che consola la fantasia napoletana. Vabbè, questa era... È l'idea fissa di quei cervelli infuocati. È la grande visione felice che appaga la gente oppressa economicamente in situazione difficile. È la vasta allucinazione che si prende le anime. Vabbè, qui stiamo esagerando un pochettino, ma comunque alcuni ci spendevano un po' troppo. Insomma, poteva... È sempre un gioco che può essere pericoloso, eh? Nel senso che non ci spendete troppi soldi, in questo senso. Le speranze dal popolo venivano così alimentate dal gioco e guai a chi volesse toccarlo. Giuseppe Garibaldi ci ha provato con un decreto, ma il suo ordine non fu mai eseguito. Lo volevano abolire? No, è andato avanti questo gioco. I napoletani poi, con il tempo, hanno creato una sorta di venerazione all'otto e si è arricchita e rafforzata la smorfia. La smorfia, appunto, è questo interpretare i sogni. Chi meglio interpretava poi diventava anche famoso, perché grazie all'interpretazione faceva vincere dei soldi. Al giusto numero. Per esempio, non so, ho sognato qualche cosa, vi faccio un esempio. Ho sognato che passeggiavo per la città, ho incontrato un vecchio amico di scuola che era diventato carabiniere e mi ha salutato mentre mangiava un gelato. Interpretazione. Per esempio. Andiamo. Vecchio amico, per esempio, si potrebbe... Non so se c'era qua. Si trovava l'interpretazione dell'amico e si dava il numero. Poi c'era il carabiniere e aveva un altro numero. E poi c'era il gelato che aveva un altro numero. E quindi si faceva il terno. Ora vedremo numero per numero tutti i vari significati. Finiamo. Citazioni di questa usanza le troviamo nella commedia Non ti pago di Edoardo De Filippo. Magari questo se lo trovo su YouTube, ve lo metto anche in descrizione. Massimo Troisi insieme a Enzo De Caro e Lello Arena diede la sua compagnia. Queste le parole dell'attore sulla decisione di chiamare il trio La Smorfia. Ah sì sì, all'inizio Massimo Troisi appunto aveva fatto un trio comico con Enzo De Caro e Lello Arena e l'avevano chiamato questo trio La Smorfia. È un riferimento tipicamente napoletano a un certo modo di risolvere i propri guai giocando all'otto e sperando in un terno secco. Terno secco se si indovinavano tre numeri si facevano bei soldi eh si prendevano bei soldi quindi era come un modo per risolvere i problemi della vita con un bel terno secco ti sistemavi per almeno un annetto eh. La Smorfia infatti non è altro che l'interpretazione dei sogni e dei vari fatti quotidiani da tradurre in numeri da giocare all'otto. Andiamo adesso al numero per numero. Numero uno, l'Italia. Numero due, la bambina. Vi do anche la, la, cerco di leggere il napoletano non sono bravissimo ma insomma non sono neanche malaccio eh. Aviciriel, aviciriel. La gatta, agliatta. Numero tre, la gatta, agliatta. Numero quattro, il maiale, opuork. Numero cinque, la mano, le cinque dita no? A mano. Numero sei, quella che guarda verso terra. Quella che guarda in terra. Che cos'è? Quella cosa che guarda sempre verso terra è l'organo sessuale femminile. Qui c'è sempre la, lo spirito e la, la simpatia del popolo napoletano. Il vaso di Creta. Il vaso di Creta. No, questo è il vaso di Creta. Numero otto, la Madonna, Amaronna. Perché l'otto? Perché l'otto dicembre è la festa della Madonna. Anche cinque, è facile capirne il significato. Cinque, le dita della mano. Numero nove, la figliolanza, affigliata. Perché ovviamente è una famiglia con nove figli. Era una bella, una bella famiglia. Dieci, i fagioli e fasù. Qui ovviamente dopo la tradizione, il popolo napoletano anche al numero dieci ha associato anche Maradona, Diego Armando Maradona. Perché ovviamente portava sulle spalle il numero dieci e ha giocato nel Napoli. Insomma, oggi è stato anche intitolato lo stadio di Napoli. Numero undici, i topolini e esuricil, i topolini, i topi piccolini. Dodici, il soldato o esurdate. Numero tredici, il tredici giugno, famoso Sant'Antonio. Sant'Antonio. Sant'Antonio da Padova. Sì. Numero quattordici, l'ubriaco o umbriaco. L'ubriacone, quello che beve molto alcol e sta sempre un po' ubriaco. Numero quindici, il ragazzo o guaglio uno. Probabilmente perché ha quindici anni, insomma, è sei ragazzo. Sedici, il culo o culo. E questo non lo so perché. Associazione, questo che chiedete agli esperti. 17, la sfortuna, disgrazia. Questo perché in Italia il numero sfortunato è il 17, non il 13, come è in America e nei paesi anglosassoni. Ma la sfortuna è in Italia il 17. 18, il sangue. Questo, se non ricordo male, perché il giorno di San Gennaro è proprio il 18 di settembre, dovrebbe essere. Ah no, 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 mi sono sbagliato. Il giorno di San Gennaro è il 19. Chiedo scusa. Come non detto. 19, la risata, arsata. 20, la festa, a festa. 21, la donna nuda, a femmina nur. 22, il pazzo, opaz. 23, lo scemo, opaz. Quindi c'è, insomma, vedete la sottile differenza. O pazzo, o scemo. Sono due cose ben diverse. 24, le guardie. E guardie. Vedete il doppio G? E guardie. Questo è il dialetto. 25, Natale. Questo si sa, 25 dicembre è Natale. 26, la piccola Anna. Nanniniella. Questo perché il 26... Quando è Sant'Anna? Santa Anna, il giorno. E dovrebbe essere proprio il 26 questo, se non sbaglio. Il 26 luglio. E certo, sì, sì, sì. Sicuramente. 27. 27, il pitale, o cantare. Il pitale. Il pitale, se non sbaglio. E' dove, e sì, l'orinale. Dove una volta si metteva il vasetto da notte. Il vasetto da notte, per non alzarsi e andare in bagno. Che magari era freddo, ma antiche usanze. Andiamo avanti. 28, i seni e ziz. E questo, vabbè, che credo che... Lo sappiamo. 29, il padre dei bambini. O padre delle creature. Il padre delle creature. Chi è? E' l'organo sessuale maschile. L'organo sessuale maschile. Quindi abbiamo, ritornando a... 6, è l'organo sessuale femminile. E invece l'organo sessuale maschile è il 29. 30, le palle del tenente. E' palla del tenente. 31, il padrone di casa. O padrone di casa. Perché... Ecco, questo già riflette economicamente. Il 31, ultimo giorno del mese, si doveva pagare l'affitto. Si doveva pagare l'affitto al padrone di casa. Ecco perché. 32, il capituno. Capito 1. 33, gli anni di Cristo. A 33 anni, appunto, Cristo. Viene messo in croce e muore. Per poi, ovviamente, per chi crede, risuscitare. L'annecrist. 34, la testa, a capa. 35, l'uccellino, l'accellus. Uccellino. 36, le nacchere. Quelle tipiche della Spagna. Tac, 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 tac. Le nacchere, le castagnelle. 37, il monaco. O monaco. 38, le botte. I mazzate. Questi sono proprio quando si danno gli schiaffoni, i pugni, i calci. Fanno a botte. Fanno a botte. I mazzate. 39, il cappio al collo. Ah, l'impiccaggione. Ah, fu un'anganna. 40, la noia. 41, il coltello. 40, il caffè. Grande tradizione a Napoli. Oh, caffè. L'espresso, o caffè, è veramente di grandissima tradizione anche a Napoli. 43, la donna al balcone. Ecco qua, il balcone di Verona. La famosa casa di Giulietta. La donna al balcone. Anche qui, on, on pereta foru barcone. Ecco, il significato è la donna sguagliata. La donna che non si fa gli affari suoi. Impicciona, che si espone, si mette sempre al balcone per vedere i fatti degli altri. 44, la prigione. I cancelli, no? Della prigione. 45, il vino buono. O vino buono. 46, il denaro. I soldi. I denari. O 47, molti a Roma, ad esempio, dicono 47 è morto che parla. No, per la tradizione napoletana. 47 è il morto. O morto. 48 è il morto che parla. O morto che parla. Quindi questo è, attenzione, perché molti fanno l'errore. Quindi durante il sogno, se c'è una persona morta che vi parla, dovete giocare il 48. 49, la carne. O pièce carne. Sto dando il mio massimo a 100 napoletano. Ci sto provando al massimo. Anche se io sono di Roma, però ho veramente, mi piace molto Napoli, Sud Italia. E sono uno studioso. Uno studiose, diciamo. 50, il pane. O pane. 50. 51, il giardino. O giardino. Bellissimo. Giardino. 52, la mamma. A mamma. 53, il vecchio. O viecchio. O viecchio. 54, il cappello. O cappiella. E qui dopo vi metto anche un link su o cappiella. 55, la musica. La musica. A musica. Musaca. Come si dice anche in russo. Musaca. Questo anche in napoletano. Sembra russa. Musaca. 56, la caduta. Caruta. Quando si casca, si fa un sogno che si casca. Giocata il 56. Il gobbo. Il gobbo. La gobba. Avere la gobba. Ve lo faccio vedere perché non esce più la preview. Il gobbo. O scartellato. Che succede? Non mi sta funzionando più internet. Vabbè. Andiamo avanti. Non c'è problema. 58, il pacco. O vacotto. 59, i peli. E pil. I peli. I peli del corpo. Magari sognate una persona piena di peli. O senza peli. Ecco. 59. 60, il lamento. O lamenta. Oppure anche lei. Colui. Cioè quella persona o quella persona donna con lei. Quell'uomo con lui. Con lei. Che si lamenta. Che se lamenta. Questo e questo. Questo e questo. Troppe tasse. Troppe tasse. Ma lascia. 61. Il cacciatore. Il cacciatore. O cacciatore. 62. O il morto ammazzato. O morta cise. Un morto che viene ammazzato da qualcun altro. Nel sogno. 63. La sposa. A sposa. Non capisco. Perché prima mi usciva la preview. E adesso. Era molto carino vedere. Così potevate. Vabbè. Che dobbiamo fare signori. Ma scusa. Non mi esce più. Prima mi usciva. Ma. Proviamo a fare un reload. Sembra come che non mi stia funzionando più l'internet. Ma sì. Sarà perché internet sta avendo qualche problema. Provo a fare. Allora. Andiamo avanti. Momento eh. Tanto il video non dipende. Dall'internet. Quindi. Siamo arrivati. La sposa. Eh. 64. 64. La marsina. A sciam. A sciam. Maria. Eh. Sarebbe lo scialle. 65. Il pianto. O ghiant. 66. Le due zitelle. E due zitelle. E due zitelle. Vedete. Sono come delle signorine. Delle signorine. Infatti. Lì. Vedete. Il numero 6. Significato. Due signorine affiancate. E due zitelle. Le due donne sole. Vedete. Sono affiancate. 67. 67. Il totano nella chitarra. Ah. Ecco. Questo non lo sapevo. Vedete. C'è sempre da imparare. Era il riferimento all'atto sessuale. Il totano d'indaghitarra. Ecco. Vedete la delicatezza. Per non dire proprio il riferimento all'atto sessuale. C'era questo senso figurato. Il totano. Il totano dentro la chitarra. 68. La zuppa cotta. La zuppa cotta. 69. Sottosopra. O sottangoppa. O sottangoppa. Il sottosopra. Vedete. Questo sta sopra e questo sta sotto. 70. Il palazzo. 71. E qui potete immaginare le risate quando si fa la tombola a Natale. 71. L'uomo di merda. L'uomo è merda. Una persona malvagia o riprovevole. E qui scoppiano tutti a ridere quando si dice 71. L'uomo è merda. Alla tombola napoletana di Natale. Oppure anche quando esce il numero 16. Le risate che si possono fare in famiglia. Andiamo avanti. Eravamo arrivati all'uomo è merda. 72. Lo stupore. A maraviglia. 73. L'ospedale. Ospitale. 74. La grotta. A grotta. 75. Pulcinella. Classica figura del carnevale napoletano. Pulcinella. 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 76. La fontana. La fontana. 77. I diavoli. Riavolil. I riavol. I riavolil saranno i diavoletti. Riavol sono i diavoli. 78. La bella figliola. La bella figliola. Ah, questo per esempio anche non lo sapevo. Si intende la prostituta. Non lo sapevo. Pensavo fosse semplicemente una bella ragazza. E invece fare un riferimento più preciso. 79. Il ladro. Un mariolo. Quello che ruba. Ruba, ruba. 80. La bocca. A bocca. 81. I fiori. E sciur. 82. La tavola imbandita. A tavola imbandita. Per esempio nelle grandi feste, nel pranzo della domenica, compleanno, Natale, Pasqua ed altre feste. E' importante, c'è una bella tavola preparata con tutte le cose più belle e più buone. anche con la tovaglia, i tovaglioli, i bicchieri, le posate. 83. Il maltempo o un maletiempo. Quando piove sempre o c'è vento o un maletiempo. 84. La chiesa. 85. Le anime del purgatorio. L'anima do priatorio. E anche qui vi metto un link su uno dei film napoletani. L'anima do priatorio. Le anime del purgatorio. Qui potete anche far riferimento a Dante. voi che studiate la lingua italiana. C'è l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Le anime del purgatorio sono quelle anime che sono lì in attesa che si stanno purificando pian piano per poter arrivare in paradiso. 86. La bottega. La aputeca. Questo è il negozio. Il negozio dove si vendono delle cose o dove si pratica l'artigianato. 87. I pidocchi e perucchie. E qua era insomma un tempo fa. Anche oggi qualche volta ancora può capitare fra i bambini che c'è qualche caso di pidocchi ma è sempre più raro. Per fortuna. 88. I caciocavalli. Cascavalli. Vedete la forma? 8-8. Sembrano proprio dei caciocavallo. Il caciocavallo. È un formaggio. Che spero mi possa funzionare l'internet ma mi sembra che si sia bloccato tutto qui. Niente. È peccato. Volevo far vedere. La tipica forma del caciocavallo magari ve la metto aspettate un attimo provo a mettere un attimo andiamo avanti eravamo arrivati al 88. Il caciocavalli è un formaggio tipico che viene appeso e sembrano proprio alla forma del lotto quindi un caciocavallo più un caciocavallo sono i caciocavalli plurale 89 la vecchia a vecchia e 90 la paura a paura bene vi metto tutti i link qui c'è il gioco del lotto il sito ufficiale la storia della smorfia napoletana che cos'è la tombola come poter realizzare una tombola con le cartelline non è così difficile perché avete per ogni cartellina 15 numeri vedete 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 sono 15 e mettete poi qui le unità le decine qui i 20 i 30 40 50 60 70 e 80 io l'ho realizzato e ci divertiamo benissimo ciao a tutti questo video spero vi sia piaciuto e vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti